Gioia, è un giorno emozionale, anche per me non farò rire, ma è davvero emozionale per me anche perché vieni il tuo primo titolo FIA oggi. Sì, siamo stati vicino molto, la seconda prima, la seconda prima, la seconda prima, la seconda prima, la seconda prima. La seconda prima, 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 la seconda prima. Tutti che mi aiuta a tornare, non li ringrazio. Ora tu puoi dire che i nostri reali emozioni durante la settimana, eravessero un po' di più? Come eravessero la seconda prima? Sì, non è facile. Mi sapevamo di fare una buona qualificazione, mi sapevamo di restare in fronte, per essere sicuro. Perché, ovviamente, Gabriel era lì per fare un buon risultato in fronte, per ottenere punti. No, mi sapevamo di fare il miglior lavoro che potremmo. Ora possiamo andare al finale. E cosa per la Super Eats? Perché abbiamo visto un'increzzante l'ultima. Il tuo passaggio era molto buono. Sì, era buono. Ma tutto questo weekend non abbiamo fatto troppo e abbiamo fatto il miglior. Quindi, sì, vediamo. Ma non volevo rischiare qualcosa nel finale, nel pre-final, perché non sai cosa può succedere. Sì, magari un po' anni fa avrei provato a vincere, ma ora Marco mi diceva di essere calmo ogni volta. E ora è ok. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.